Volevo sapere da te quanto è importante, quanta responsabilità senti considerato che siete tra i primi film che ritornano, che spingono al ritorno al cinema italiano, quanta responsabilità senti in questo? Sento responsabilità perché eravamo convinti che il film fosse un ottimo film, ma stiamo percependo delle reazioni dalla stampa, dalle prime proiezioni molto partecipative. Quindi questo creerà sicuramente, alzerà la sticella, creerà attesa e sono convinto che sia un film liberatorio, sia un film trasportante, quindi sia un'esperienza assolutamente da vivere al cinema. Questo è un film per la sala, quindi spingo e chiedo a tutti di andare nelle sale e vederlo perché il cinema è qualcosa di magico e questo film ha un forte trasporto dove si ride, si piange, ci si emoziona e si piange, ma non per eventi catastrofici o drammatici, ma per le emozioni che hanno dentro questi personaggi. Per cui sono convinto che funziona, sono contento che 0.1, Rai Cinema e Groenlandia puntino su questo film come un film del rilancio perché è un film positivo, è un film sulla felicità, sulla ricerca della felicità di persone apparentemente lontane da noi ma che in realtà sono molto più vicine di quanto immaginiamo. Ok, grazie. Grazie.